Ogni tanto ci capitano pure imprevisti come la galleria laziale sulla quale stiamo lavorando H24 per cercare di arrivare alle migliori soluzioni possibili nel più breve tempo possibile, ovviamente nelle condizioni di sicurezza che devono essere garantite, quindi c'è l'impegno non solo delle due partite ma poi un impegno e credo che tra oggi e domani avremo un quadro definitivo su tempi e modalità con cui dovremmo resistere in questi giorni.